a tutti shhhh shhhh oh 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 oddio ma lo sai te quante volte han beccato me a far certo vabbè io non lo so però lo dico ma poi diventi cieco eh io lo dico per te mica lo dico per me sai cosa me ne frega eh ma non è un problema vabbè comunque non è che stiamo a preoccuparci di questi problemi eh tu hai messo in un grande pericolo lì ma l'ho fatto apposta via professore quando ero al cimitero contro voldemort alla mia bacchetta è spuntata una nuova funzione la funzione vibrazione lei ne sa mica qualcosa prior incagazio oh scusa pensavo un'altra cosa sono riapparsi i tuoi genitori quella notte per te forse ma come bellini fai a pensare che i morti risuscitino ma sei proprio fuori ma come fai sei scampato per miracolo a voldemort e il mondo che noi conosciamo potrà essere distrutto e niente sarà più come prima ma ricorda questo non sarai bocciato ehi ehi tre ehi ehi tre ehi 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 Io non glielo do la mano a questo qua, eh? Ti vinta di mettermi? Oh, ciao porco. Ciao bello, torno adesso dal bagno, la stronza qua non me l'ha preso. E lo stronzo? Ma no! Eh, lo stronzo si è bello. Mi è piaciuto. Oh! Andiamo dai miei o dai tuoi? Sì. Fatevi meno seghe quest'estate. Tutti e due. Sei matta, devo fare i compiti. E tu invece Harry? Eh, e tu Harry? Apri gli apelli qui, asciugati. Mi è pensato a un cavallo. Se mai dovessi farlo il prossimo anno vengo con un terzo dei miei capelli. Sì, me li taglio. Affondiamo! Aiuto! 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 Era troppo bello un finale dove i fighetti bastardi cani se ne andavano dopo essersi fottuti le nostre donne? Eh? Beh, questo significa anche fottere il sistema! A presto! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti